Per i pezzi di ricambio? Tieni tutto in sostesa. Dominic, non so ci fare. Ah, scusa, che diavolo è quella roba? Che cosa mi hai portato? Questa è la tua macchina. La mia macchina? Ho detto un quarto di miglio in dieci secondi, non in dieci minuti. Questa ce la porti a spinta oltre il traguardo? Oppure col carroattrezzi? Non ci arriva nemmeno col carroattrezzi oltre il traguardo. Non hai fiducia? Io ho fiducia in te, ma questo non è uno spascia carrozze, è un garage. Ehi, apri il cofano. Ha anche un cofano? Apri il cofano. Motore JZ2, porca troia! La porto allo spascia carrozze? Ritiro quello che ho detto prima. Sai una cosa? Questa darà una pista a tutti, però dopo averci speso 15.000 bigliettoni o forse più, se dobbiamo farci arrivare ai pezzi dal Giappone. Li mettiamo sul mio conto da Harry? Sì. Devo rimetterti in condizione di gareggiare. Tu ti fai il culo, io faccio i soldi. C'è una gara nel deserto che si chiama Race Wars, ed è lì che mi ripagherai. E facciamo così, quando non lavori da Harry, vieni a lavorare qui. Se non riesci a trovare l'attrezzo giusto in questo garage, Mr. Arizona, le macchine non fanno per te. Ora sei il suo.